EWC, Pilot Mark, Storia, Modelli e Prestigio dell'Orologio d'Aviatore Se c'è un marchio che ha fatto la storia degli orologi da pilota, questo è senza dubbio EWC. La casa di Schaffhausen ha iniziato a produrre segnatempo per l'aviazione fin dal 1936, con il suo primo Special Pilot's Watch, e da allora non ha mai smesso di innovare e perfezionare questa tipologia di orologi. Tra i vari modelli che hanno contribuito a creare la fama di EWC come produttore di orologi d'Aviatore, spicca il Pilot Mark, una serie che affonda le sue radici nel 1948, quando EWC realizzò il Mark 11 su richiesta della Royal Air Force britannica. Il Mark 11 fu un orologio rivoluzionario per l'epoca, dotato di un movimento protetto da una gabbia interna in ferro dolce per schermarlo dai campi magnetici, di un vetro fissato in modo da resistere alle variazioni di pressione, e di un quadrante nero con numeri e indici luminosi, oltre a un caratteristico indice triangolare alle ore 12. Nel 1994, EWC decise di riproporre il Mark 11 in una versione aggiornata e destinata al pubblico civile, il Mark 12. Questo modello mantenne il design essenziale e funzionale del suo predecessore, ma introdusse alcune novità, come il datario a finestrella, il movimento automatico basato sul calibro Geger Lecoultre 889, e il diametro di 36 mm. Per celebrare l'ottantesimo anniversario dei Pilot's Watches, nel 2016 EWC ha proposto il Mark 18 nel tipico design delle edizioni, Le Petit Prance, con quadrante blu notte e con il fondello inciso con il ritratto dell'autore o con il disegno del piccolo principe, un omaggio al celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Il Mark 20 è un orologio che combina design coerente, evoluzione graduale e innovazione tecnica, ha una corona a vite e una resistenza all'acqua di 100 metri. La finitura è robusta e raffinata, con superfici spazzolate e lucide. Il quadrante è pulito e leggibile. Oltre alla classica versione nera, ci sono anche varianti in blu e verde, e due nuove varianti con quadrante argentio. Questi segnatempo racchiudono in sé il fascino e la funzionalità degli orologi da avviatore, con una qualità e una precisione tipiche di EWC.